Neve di quasi primavera in Abruzzo inaspettata, quote così basse. A svegliarsi sotto la Coltre Bianca è stata una parte della provincia di Chieti, quella più nell'entroterra, e la provincia dell'Aquila con in particolare il capoluogo e sul Mona. Neve più abbondante in quote nei paesi montani, qui siamo a Civitella al Fedena. Ma la neve, sebbene sia sempre spettacolare da osservare, non ha mancato di creare disagi alla circolazione stradale. Ne è bastata una spolverata, infatti per mandare in tilt il sistema autostradale aquilano, con l'A24 temporaneamente chiusa agli automobilisti in mattinata dopo i disagi registrati sin dalle prime ore della giornata. Polemico sui social, l'ex primo cittadino dell'Aquila Massimo Cialente che parla di vergogna per la chiusura dell'autostrada. Prima della chiusura però diversi disagi si sono verificati sia sulla A24 che sulla A25, un ingorgo al casello di l'Aquila Est, altri rallentamenti fra Carsoli e Oricola e anche all'altezza del Bivio fra Roma Teramo e Cocullo e Prato la Pelinia sul Mona. Un incidente infine ha coinvolto due auto sull'autostrada fra Avezzano e Magliano dei Marsi, con buona pace degli automobilisti che hanno fatto riecheggiare le voci di protesta via Facebook. Il maltempo comunque imperverserà sull'Aquilano ancora per qualche ora, ma nella giornata di domani si dovrebbe assistere a un temporaneo miglioramento. Effettivamente la quota neve è scesa nettamente più in basso rispetto al previsto, inizialmente era attesa oltre i 1200 metri di altitudine nelle aree interne abruzzesi, ma a quanto pare è nevicato anche all'Aquila e ha quote attorno ai 600 metri di quota su gran parte dell'Apennino abruzzese. Ma cosa ha fatto la differenza? Perché la neve è scesa a quote così basse rispetto al previsto? Beh, ci ha pensato il fenomeno dell'omotermia, ovvero l'aria molto fredda presente in alta quota è scesa rapidamente verso il basso proprio grazie alle forti precipitazioni, quindi le precipitazioni molto intense hanno permesso un crollo della temperatura a tutte le quote, soprattutto in alta collina e quote di bassa montagna, pertanto favorendo l'arrivo della neve sin verso i 700 metri di quota.